cari amici del canale youtube dentro la notizia robimaster cosa sta succedendo a questo vecchio e pazzo mondo si starà domandando thomas ez chi è quest'uomo lo scopriremo più avanti come scopriremo anche perché il mondo gli sembra impazzito oggi 25 dicembre con i ritmi di vita più rilassati per molti vorrei proporvi questa riflessione leggevo i dati recenti comunicati dalle nazioni unite riguardo la germania mi hanno colpito molto le cifre riguardanti la crescente povertà al punto che non volevo credere ai miei occhi io ho dovuto confrontarli con altre fonti niente da fare è proprio vero la germania è un paese ricco dove i cittadini si stanno impoverendo ragioniamo assieme su qualche numero innanzitutto dobbiamo prendere atto che come sempre sono le categorie più fragili a pagarne le conseguenze come per esempio gli anziani che vivono in condizioni disumane a causa della mancanza di personale che si prenda cura di loro quando non proprio solo per mancanza di soldi secondo il rapporto delle nazioni unite di cui vi dicevo in germania vi sarebbero anche un totale di circa 2 milioni e 550 mila bambini che attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà gli esperti dicono che la burocrazia e la mancanza di informazioni impediscono ai genitori di ricevere i benefici a cui hanno diritto ma sarà solo questo il problema o c'è dell'altro in totale circa un milione e duecentomila lavoratori devono fare affidamento sui benefici statali per sopravvivere il rapporto delle nazioni unite ritiene necessario un aumento del salario minimo e una sua coerente applicazione per risolvere i problemi recentemente il governo tedesco ha inserito nel sistema di assistenza sociale centinaia di migliaia di lavoratori a basso reddito o non qualificati durante la crisi dei rifugiati del 2015 aggiungendo un ulteriore onere ai sistemi sociali e provocando così una spaccatura sociale cosa è successo in germania nel 2015 oltre un milione di profughi approdarono in terra tedesca in soli quattro mesi pensate tra il 2013 e il giugno 2017 i minorenni siriani passarono da circa 7.600 a oltre 205.000 nell'analogo periodo il numero dei bambini e giovani afghani triplica a oltre 37.000 gli iracheni sono cresciuti di due volte e mezzo a più di 51.000 in rapido aumento anche i minorenni che vengono dall'est europa i bambini bulgari sono oltre 30.000 cinque volte di più rispetto a cinque anni prima è assai comune vedere i bambini che raccolgono bottiglie di plastica usate per portarle poi in qualsiasi negozio riscattare così il deposito di 25 centesimi a bottiglia ovunque si sia comprata l'acqua minerale o la coca cola o anche altre lattine così facendo grazie a crociar ai bambini che fanno un'incetta di bottiglie ne guadagna l'ambiente però pensate un bambino su tre a berlino vive al di sotto della soglia di povertà su tre milioni e mezzo di abitanti un terzo sono anche gli adulti che vivono grazie alle misure sociali forse qualcuno potrà pensare che gli oltre 2 milioni e 550 mila bambini poveri siano tutti immigrati o figli di migranti secondo il seguente dato le cose non stanno proprio così l'anno scorso solo 583 mila e 600 bambini vivevano in famiglie straniere che ricevono l'arts quarto cioè l'assegno sociale pari al minimo vitale di 416 euro mensili a testa oltre ovviamente l'alloggio con un aumento del 41,1 per cento rispetto all'anno precedente il 2016 quindi facile capire che dei restanti quasi due milioni di bambini poveri la maggior parte di loro fossero tedeschi e anche se in certe regioni come la ricca baviera il problema può essere percepito meno la povertà crescente è reale i numeri non mentono ora torniamo al nostro amico thomas etze dovete sapere che qualche giorno fa un giornale in germania riportava la notizia di quest'uomo tedesco con un nucleo familiare di cinque persone che ha pagato per anni il sistema sociale e che è stato recentemente informato dall'assistenza sociale di avere diritto a 900 euro al mese dal governo tedesco una famiglia povera di cinque persone difficilmente potrà vivere con questa somma ma in compenso quello che deve far riflettere è che attualmente una famiglia di quattro migranti ha diritto a ben 1350 euro senza avere mai versato nulla al sistema sociale come può essere che una famiglia tedesca di cinque membri che in passato ha versato i contributi allo stato riceva oggi meno benefici rispetto a una famiglia di quattro migranti siamo sicuri come diceva la jan marinaro ricorderete la relatrice speciale delle nazioni unite sulle tratte di esseri umani che gli immigrati portano ricchezza ai paesi che li ospitano non è piuttosto che drenano risorse per lo stato sociale e che quindi noi europei avremo sempre meno denaro per provvedere ai nostri poveri non è per caso che queste immigrazioni di massa rischiano di impoverirci sempre di più cosa ne pensate e ancora non abbiamo potuto vedere gli effetti nefasti del global compact già ora in germania i tedeschi hanno meno diritti degli immigrati e in italia cosa ne pensate e mentre si avvia la conclusione l'era merkel è tempo di bilanci la germania è un paese ricco è tutto un blef aumenta sempre di più il divario tra ricchi e poveri il benessere è solo apparente si è volutamente creata una società profondamente ingiusta angela avrai la tua ricompensa dall'elite da cui provieni genealogicamente ma hai posto le basi per l'impoverimento dei tedeschi cari amici come abbiamo potuto notare l'elite non vogliono ridurre le miserie e schiavitù solo l'italia ma le persone di tutte le nazioni grazie ai vostri commenti sarà possibile se lo vorrete continuare a sviluppare il tema aiutatemi a diffondere i video a far conoscere il canale dentro la notizia e sosteneteci con una donazione che ci permetta di continuare a lavorare per il bene di tutti aiutateci a mantenere acceso il faro puntato contro le losche trame delle malvagie elite a nostro danno un abbraccio a tutti voi cari amici dal vostro Robi Master